ragazzi ragazzi rieccoci qua su stag 2 il cuore dello sciame continuiamo a manovare l'izzerg che vi dirò mi sta dando molta molta soddisfazione sono molto soddisfatto di questa razza ma come avevo detto appunto io la usavo e mi piaceva usarla probabilmente si vede quindi mi sto trovando molto bene nell'episodio scorso abbiamo messo diciamo i bastoni tra le ruote al generale Wolf distruggendo navi di classe al di là dell'incrociatore, incrociatori più grossi semplicemente e stiamo anche evolvendo comunque le nostre unità abbiamo praticamente evoluto gli zergling adesso sono più numerosi e vengono creati molto più in fretta che è ottimo e direi di passare alla missione per tornare a governare Char dovremo distruggere la fortezza dei Terran combatteranno con ogni mezzo disponibile attendiamo soltanto il tuo comando mia regina ok missione evolutiva baneling sblocchiamo molto bene poi come ho detto io ci provo a prendere i livelli per Kerrigan perché comunque ci serviranno però se non ci riesco non ci riesco l'episodio scorso ne ho preso uno e gli altri due erano sicuramente nascosti ma non riuscivo a fare in tempo a esplorare e guardare in giro perché c'era il mega incrociatore in arrivo sulla base quindi non ho potuto adesso c'è Aberrazione ci sblocca anche l'avevo letto è un'unità pesante da prima linea che infligge 20 danni contro i bersagli corazzati può camminare sopra le unità più piccole praticamente è un baneling più grosso sostanzialmente mi sa comunque avvia missione abbiamo raggiunto la fortuna sono trincerati e pronti a ricevere non c'è tempo per le buone maniere e cerchiamo ovunque si siano nascosti e li travolgiamo prepararsi al lancio nucleare voglio che di quegli insetti restino soltanto cadaveri ardenti il generale Warfield sta attivando l'arsenale nucleare dobbiamo sbrigarci Zagara prepara una colonia io cercherò di infliggere più danni possibili vado ok quindi la colonia che non è sotto il nostro controllo preparerò una colonia per lo sciame mentre tu infliggi quanti più danni possibili mia regina mandami dei rinforzi appena puoi allora io direi di usare prima i baneling come sfondamento vai adesso andiamo no 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 ok attacco nucleare per due minuti altri servitori sono giunti di rinforzo al tuo attacco mia regina ok direi vieni qua ok tutti insieme direi appassionatamente qua eh oh quanti ne sta mandando aspetta sono morti tutti eh oh aspetta ma perché madonna e niente come verrà rianimata dopo l'attacco nucleare eh vabbè perché ho sbagliato una cosa a cui non ho pensato in realtà i baneling mi sa che infliggono danni a noi questi insetti non avranno mai char e vabbè distruggete tutto attacco nucleare procedete con l'opzione nucleare uccideteli tutti però la colonia è sopravvissuta a malapena mia regina quando il suo arsenale tornerà online Warfield scaglierà altre testate possiamo solo sperare di distruggere il suo centro tattico una volta all'interno sarà finita ho creato qualcosa per aiutarti ad annientare il Terran le aberrazioni sequenze scarse eppure efficaci usa le mia regina prendi il controllo della colonia e il Terran impareranno a temere lo sciame ah si fa da parte adesso non mi fermerete ok si fa da parte ah muta muta perché ne fa di più mi pare adesso non mi ricordo ma ok no fammi zagli all'istante ok io dove sono ero qua ero qua ah mi sono spostato qua aspetta un attimo distruggi con pesci scientifici sono d'accordo aspetta però allora aspetta un attimo mettiti lì e non mi ricordo la mutazione cosa comportava comunque facciamo così ok fammi fare ok così fammi ma i banning sì dai facciamolo il nido ok dobbiamo farne il più possibile eh devo fare sorveglianti ce l'ho al tempo spero di sì spero di sì quindi il primo era solo un assaggio adesso vediamo ci proviamo a fare il nostro esercito qui devo anche eh mi sta spiando non si fa ok ha creato sì sono due qua ne mettiamo un terzo uomini abbiamo individuato la colonia zerg schierate le squadre d'assalto facciamo qualche tutte le unità facciamo tutte tutte vicine vicine ok carrigane qui va bene quindi la prima volta comunque te lo dovrà fatta con nucleare e tu dovevi distruggere il più possibile più possibile ok i sorveglianti li ha creati fammi fare ok perfetto qui com'è qui sta procedendo bene adesso fammi fare eh voglio è inutile che lampeggi qui adesso li faccio questi li faccio fammi fare qualche baneling ah non si può metto le risorse ok perché è vero i baneling colpiscono tutti se non sbaglio no a posto ok a posto a posto fatemi fare un paio di regine se possibile fammi fare eh niente tutto mesaurito ma ma scusa li seguono io ho selezionato solo questi ok eh si va oddio via i Terran stanno lanciando un altro missile nucleare sgombro la zona si ma sono via è qua ho preso solo il biotumore basta che adesso rifacciamo ce l'abbiamo la regina qua ok ecco non mi sembra ci sia il tempo quindi io me la prendo comoda allora adesso ne faccio uno se no nessuno si smette di lampeggiare ok ecco eh ok allora io però così ma eh Carrigan io comunque la lascerei qui è vero che lei si rigenera se no devo gestire allora aspetta lasciamola qui mandiamo loro in avanscoperta in un certo senso dai rimetto cioè mandiamoli qua ah ecco ah ma no non scoppiano questi pensavo di sì pensavo che scoppiavano li vedo tutti pussosi con us e invece no non scoppiano attaccano in corpo a corpo praticamente esatto eh fammi potenziare la corazza e l'attacco a distanza eh andiamo ok ok vai vai in 3 nanosecondi via dicevo andiamo qua ok eh quindi ok ma il gas vespe ne per ora va bene anche così ah ok metto via via cioè si colpiscono da soli c'è ah un altro via vai vai distruggete tutto eh qua è difeso va bene ok va bene va bene ma pensavo che scoppiava invece questo eh si ma io colpirà duro eh non dico che colpisce piano però facciamo facciamo qualche sorveglianza ah oddio ah qua c'è eh state bene lì dai attaccate ma questi ok ok dicevo ho fatto qualche sorvegliante eh io però a me piacciono troppo gli zaglin per questo tendo a fare questi che se fosse potenziati oh madò qua mi spiano venite qua qua mi spiano anche voi due andate qua via 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 tutti è un rotto però eh cioè eh che cavolo vai ok ah ok voi andate qua andate qua andate qua bordello non è rimasto non è rimasto niente oh caracca eh no mi servono mi sa che mi serve carri comunque adesso vediamo potrei fare fammi fare mia regina mia regina il completamento degli obiettivi bonus aumenterà il tuo livello di potere lo so è quello che sto cercando di fare eh ok quello che sto cercando di fare eh una ne faccio costano le aberrazioni eh però aspetta ok ok io faccio un'altra un altro vivaio sì con carrigan abbiamo più possibilità adesso la la mandiamo qua devo vediamo versione evoluta sia un bastardo però un altro missile che ostinazione proprio qua appena creato però ha resistito bene dai un altro dove erano in tre ok basta fammi questo e fammi un po' di questo ok e qua voglio mutare ok comunque le strutture si rigenerano poco nel tempo ma si rigenerano mi sa sì infatti ok allora adesso qua è un'altra ottima zona direi che tu vieni qua ci occupiamo prima di questo ecco che cala il martello eh che dici scusa eh cavolo proprio li ho intercettati al momento giusto non male sì ok qua sta mutando ok venite qua qua abbiamo potenziato quello che potevamo potenziare se no facciamo così ok fammene fare un po' e i banali li mando per primi ok adesso voi carissimi venite qua stiamo qui aspetta spostati spostati vabbè banaling ok vai spero ce la facciano però eh dai un po' fino so gi ok qua com'è ok vediamo ottimo ottimo struggete tutto molto bene maledizione te ne pentirai kerrigan maledizione vai vai tornate indietro porca vacca vai 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 eh vedi però cosa vuol dire poterli creare all'istante eh aspetta facciamo così facciamo una piccola forza kerrigan sta tornando ok ok qua si immagino a sufficienza di minerali fammi fare dove ah beh lì non mi interessa no ok facciamo qualche regina appunto eh si fammi fare ah non ho abbastanza minerali fammi fare qualche qua invece non va bene via 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 porca ah l'ha presa appena appena ok ok fammi fare questo ok e devo fare i sorveglianti devo fare i sorveglianti ok allora io direi così fammi andare qui ok adesso qua facciamo un altro piccolo esercito eh cavolo c'è me ne vado faccio il tempo ad andare via venite qua ok questa sta partendo aspetta fammi fare fammi fare questo questo e mancano i minerali mancano i minerali dicevo voi che vabbè io vi faccio il giro adesso mi sposto i terran stanno lanciando un altro missile nucleare sgombro la zona ok vai vai distruggete tutto dov'è Kerrigan che qua Kerrigan torno un attimo qui e lì lì muoiono tutti muoiono tutti ma poco importa adesso ne mandiamo ancora ne mandiamo ancora ok fammi fare altre larve ok aspetta un attimo mettiamoci un po' distanti metti che guarda guarda caracca non ho abbastanza energia il medico lascialo andare vieni lì vieni lì ok ancora ok non dovrei dargli tregua ma devo avere risorse però devo avere risorse adesso andiamo qua appena facciamo una cosa di là non c'è più nessuno di là non c'è più qua usiamolo come centro ok i Terran stanno lanciando un altro missile nucleare mi sono messo mi sono messo qua apposta la mamma ha preso l'ultimo ancora un altro missile che ostinazione ma il gas vespeine direi che possiamo anche rinunciarci un attimo ne teniamone giusto due e vanno più che bene più che sufficienti ma qui è rimasto attenzione aspetta li ho visti adesso anzi voi tre mettetevi qua va qua non ci dovrebbe essere più nessuno in teoria però si sa mai si sa mai lasciamoli lì continuiamo a fare questo ok io guardo andrei anche così va ah porca aspetta eh si mi servirebbe in effetti penso che ci penso altre unità antiaeree almeno un minimo ok qua facciamo che mutiamo vabbè vespeine frega poco c'è qualcuno che non fa niente ah si vedi ok 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 così si è inutile che però mi metto in gruppo tanto muoiono tutti subito quasi ci stiamo spostando i Terran stanno lanciando un altro missile nucleare sgombro la zona ok poi qua creami ok qua creami solo raccoglitori va ok vado vado vai ma no qua cosa c'è lì sì ma qua torna indietro eh no via via vai che tanto si rigenera quindi per quello l'abbiamo abbattuta abbiamo annientato la regina delle lame ah poi torna poi torna qua fammi altri raccoglitori è perché abbiamo bisogno di minerali non è cosa che ci manca le nostre forze ah ecco porca vacca vedi l'ho fatto per niente vabbè oddio per niente magari no lo usiamo come distrazione però ci è costato un po' eh comunque le nostre forze sono sotto attacco ancora e ma poi non è quello principale comunque vabbè e niente facciamo questo meno male che si rigenera state qua state qua che cosa bisogna fare per ucciderti ok state qui state qui eh per poco ho raccolto un po' di minerali extra però no 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 ok io ci ritento ci ritento però eh vieni qua però non lo non lo trasformo lo lascio così stavolta sto giro eh aspetta qua eh perché poi il destino è quello appunto lo lascio così lo lascio così a sto giro facciamone ancora ancora ci proviamo ci proviamo allora aspetta venite qua devo sbrigarmi perché magari ne fanno ancora ok allora adesso ancora qui tutti insieme via via spostatevi sgombra la zona altro missile in arrivo ok dobbè che è a riga non la vedo ok ok dai 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 che a sto giro va dov'è Kerrigan eh non va invece mi sa madonna aspetta dov'è che se muore che se ne frega però e non va non va aspetta droni porca vacca e aspetta aspetta ah madonna quanto ho accumulato mi sono distratto un attimo ho accumulato l'ira di dio solo che adesso e questi verranno qui secondo me verranno qui però magari no magari si eh questi sono molti eh infatti eh infatti bastard sono molto ricchi sono molto ricchi ci proviamo vi sono mancata secondo me non ce la facciamo però eh infatti no aspetta dove sgombra la zona altro missile in arrivo ok ho salvati ho salvati proprio al pelo qua ok e adesso ok un altro missile che ostinazione adesso fammene fare altri e tutti insieme per forza di cose dobbiamo andare qua per forza dobbiamo approfittarne perché voglio questi voglio questi che qua non c'è più niente quasi quasi eh cavolo però come stressano come stressano venite qui venite qui che questi stanno qua poi da qua vengono oh oh avete finito no venite qua eh aspetta un attimo distruggete tutto oh carrigan è qui allora adesso voi vi mettete qua un drone viene qua ecco via via ho finito ah mo mi so spostato la zona altro missile in arrivo no non dimmi che ha preso ah no che è passato in tempo ok ha preso il drone adesso questi qua vediamo se metto il punto di raccolta qui ok vai in massa andate ok perfetto e questi droni mo li trasferisco tutti venite qua ok si gas vespeine guarda secondo me mi basta questo qua ok voi state qui per favore non troppo avanti ok aspetta perfetto ok e facciamo aspetta ok facciamo questi ok voi continuate ecco lì ad alto rendimento andiamo qua dov'è i Terran stanno lanciando un altro missile nucleare sgombra la zona ok posto perfetto ho distrutto i complessi scientifici questo metterà fine agli esperimenti di Warfield spero che quegli insetti siano di buona compagnia vado perché verranno con te all'inferno quanti aspetta aspetta creiamone eh no non so dove metterlo aspetta qua vado vai vai aspetta ok qua stiamo stiamo rendendo bene si diciamo così facciamone qualcuno ok 88 38 su 96 ancora ancora adesso in massa eh perché 30 su 18 vuol dire che non sono mi sa ottimizzati bene questo è il problema quindi vediamo se con un altro riusciamo a ma forse no però sto per provare eh no è un po' lontano in effetti vabbè ok vai vai che massa ok adesso avanziamo di qua cadar eh kerrigan salvata come hai potuto tornare a questo ok aspetta kerrigan torna qua via ok e adesso ci mettono un po' ad arrivare ma fa niente adesso mano a mano mano a mano e avessi potuto fare ma proprio non qui non ci sta metterlo qui tipo però aspetta caca questi ho allora facciamo magari qualche regina ok e qui 200 facciamo questo e no stavo dicendo adesso non ho le risorse però qua intorno c'è spazio ok ok faccio due ci mettono un po' di più questi ovviamente ok 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 facciamone due facciamo questi adesso proviamo aspetta appena le regine sono pronte se no per eliminarne un po' per farli più efficienti facciamo così giusto per ecco oh madonna cavolo ok e qui ok proviamoci riproviamoci vabbè cavolo no comunque resistono bene porca vacca se resistono bene cioè ne mando contro un sacco l'esercito sgombra la zona altro missile in arrivo eh ok dove ah qua vabbè stanno lanciando stanno lanciando un altro missile nucleare sgombra la zona no abbastanza minerali eh se no adesso adesso dovremmo farcela secondo me qua per l'ennesima volta ok vediamo vai lì perché comunque arrivavano da qui e finito di rompere ok ok ci riproviamo ci riproviamo qua son tanti poi si separano tutti perché loro attaccano prima le unità il che è logico ovviamente dov'è che è riga amici è ancora in piedi che lo sta riparando oh la l'abbiamo abbattuta ma tornerà sfruttiamo al meglio questo momento uomini vabbè abbiamo distrutto un centro di comando qui ok dicevamo no l'altro missile in arrivo qui aspetta un attimo è la madonna li abbiamo eh vabbè venite qui e per forza tutto abbiamo esaurito qua e so che non ce n'è più qui eh non ce n'è più dov'è dov'è che si è creata qua vabbè in effetti qua però non abbiamo più bisogno però venite qua cioè possiamo anche fare così ok qui a posto eh vabbè gli stiamo distraendo gli stiamo stiamo distraendo eh l'alveare principale è sotto attacco vai così ok aspetta un attimo questa raccoglie no poi dopo questi non c'è più niente a parte qualcosina qui è rimasto via carica posso più gli stilanci nucleari però eh che cavolo ci 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 riprovo e non manca molto eh porca ma basta madonna c'è guarda mi distruono tutto porca vacca c'è io ci sto provando ma no meno male che questi si cadono ovviamente in un lampo sennò quel cavolo che stavo al passo cioè impossibile se no ci riprovo subito eh per forza andiamo qua andiamo qua qua ne faccio altri adesso adesso mi sono adesso mi sono messo a fare solo questi praticamente dovevo aumentargli proprio la velocità secondo me se gli aumento la velocità spero non abbiamo ricostruito però eh dai squadre di fantasmi bravo e delta aprite il fuoco un altro missile estinazione che riga aspetta oh madonna scombra la zona altro missile in arrivo carrega vai via questi mi inseguono le nostre forze sono sotto attacco cioè dovevo farne di più di questi anche non puntare tutto sull'izeglin probabilmente però ma guarda i costinati ma mi insega cioè che pronti balle c'è oh eh sì probabilmente sì appunto non devo fare solo di zeglin però cazzarola cioè faccio un po' di queste un po' di questi e poi solo zegli devo toh facciamone uno qui spero nessuno mi disturbi qualcuno lo metto a raccogliere il gas adesso visto che siamo a mille c'è 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 dove non c'è non c'è nessuno non c'è nessuno aspettiamo che parta adesso li facciamo facciamo questo diciamo lo sapevo io i terran stanno lanciando un altro missile nucleare sgombra la zona ma neanch'io riuscivo a fare tutti sti missili non so cioè veramente li hanno lo sconto guarda oh e cavolo facciamo sti abominini no ne faccio ancora ok vuoi dice sono pronto per attaccare e invece invece non posso ok qua procedono bene allora arrivati questi questi qua vai andiamo perché se no tanto lei si è ricaricata si loro eh creiamone ancora qualcun altro qualche regina ok adesso andiamo diretti diretti qua distruggiamo sta cosa perché mi ha rotto le balle ok no dai non so cosa colpire oh dai vai andate gli scv riparate quella breccia dove è che è il riga non mi serve un artefatto Xel Naga per affrontarti un altro missile aspetta 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 dai siamo vicini eh siamo vicini ok mettiti qua siamo molto vicini aspetta vediamo facciamo questi a manetta ok voi andate qua vai per sicurezza facciamo questi qua ok voi andate qua ok dai dai che arriva questo qua da solo ok fanno ancora ok dai vediamo se è l'attacco decisivo vediamo eh non possono essere ripresi in due nanosecondi dai cioè ne ho preso uno c'è porca di quella vacca dov'è carriga ma l'ha già riparato ma non è possibile dai essere così sta barando sta barando come cavolo ha fatto a ripararlo in due nanosecondi vabbè che gli ha mandati aspetta carriga carriga vieni qua aspetta facciamo un po' di questi forza adesso ne faccio un po' tanto le risorse per ora però qua stanno finendo quindi non possiamo tirare troppo eh non possiamo tirare troppo eh poi ok non può avere ancora queste risorse dai ok ok è lì esaurito qua ce n'è poco dai dai arrivano loro e poi attacchiamo ancora ci proviamo sperando che lui non attacchi no ah qui c'è qualche risorsa sì vai vai andiamo c'è qua c'è il solito tizio c'è il solito tizio contro di loro cioè contro questo dai è stata dura orca tenente caricate i feriti su quelle navette abbiamo quasi finito devo mandarle una squadra no no tenente pensate ai feriti io troverò un altro modo io troverò un altro modo generale i zerga sono troppi non ce la faremo mai cercare carri gun stami a sentire ho tre navette piene di uomini troppo malandati per rappresentare una minaccia mariti padri lascia andare quelle navette mi hai sentito generale siamo circondati non c'è via di scampo bastarda non sei neanche più umana ci hai traditi tutti e per cosa per mera vendetta quanti innocenti hai ucciso quanti ancora devono morire cosa direbbe Reynor se ti vedesse ora generale non abbiamo scampo è la fine generale i zerga si ritirano è un miracolo ce la caveremo generale generale scusa poteva poteva ascoltarlo fin da subito voglio dire invece è morto senza sapere che comunque l'abbiamo ascoltato vabbè ok ok ci abbiamo fatto è stata dura però abbiamo preso anche ricompense extra direi ottimo vediamo ora non si torna più indietro io non capisco i Terran non perdoneranno mai ciò che ho fatto se il mio tornare umana aveva placato la loro paura beh ora hanno un nuovo motivo di temermi ma di certo non resterò qui ad attenderli colpirò per prima effetto il Leviatano è pronto a raggiungere un altro pianeta al tuo comando va bene adesso vediamo sono così potente mi sento come se potessi essere una minaccia per te ascoltami bene Zagara un giorno potresti guidare lo sciame se credi di poterlo fare ora provaci pure ma la prossima volta combatteremo fino alla morte o tutto o niente ti servirò e apprenderò da te forse un giorno guiderò lo sciame ma non oggi e quale lezione che ho insegnato visione d'insieme mia regina questo mi ha insegnato lo sciame è potente ma il potere non basta per chi lo guida ho sconfitto Warfield non con la superiorità del numero della forza ma con la visione d'insieme che a lui mancava me lo ricorderò mia regina si visionario in certi frangenti la sua voce è un po' bassa purtroppo però non posso farci niente perché le altre sono giuste è solo la sua vabbè eeeh cosa dice lei ok aspetta però che abbiamo dei punti qua hai risvegliato una nuova serie di abilità se desideri utilizzare una nuova abilità dovrai selezionarla altrimenti non si attiverà dunque qua si l'avevo letto allora è un'abilità passiva gli zeglin uccisi vengono rianimati al vivaio principale senza alcun costo rianimano fino a 10 zeglin ogni 30 secondi affinché tutti gli zeglin non sono tornati in vita oppure i sorveglianti vengono generati istantaneamente e forniscono il 50% dei rifornimenti aggiuntivi secondo me è meglio questo però ecco ah ok quindi posso attivare diciamo nel primo gruppo due e poi ogni gruppo una posso ok posso scegliere no scelgo questa ok fosse evolutiva cercherò nei tuoi ricordi e scoprirò perché sono così arrabbiata quando ti vedo ricordi non importanti distrazioni vedo nella tua mente hai progettato tu la regina delle lame i tuoi arti mi hanno avvolto nella crisalide debole e tenera brutto ossa lacerato carne migliorata se tu non fossi importante per i miei piani saresti già morto confuso ma no lui mi sa che solo cioè gli piace il suo lavoro e lo fa lo fa bene secondo me si aspetta un attimo c'è solo ah si c'è solo la missione evolutiva allora facciamo la missione evolutiva grazie a tutti